Avete presente il detto quando è troppo è troppo? In questo caso credo che questo sia non troppo ma davvero tanto. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro di oggi e facciamo un unboxing di 5 prodotti. Sono 4 prodotti che ci ha mandato Adata, XPG, e un produttone che ci ha mandato MSI, un monitor. Che dire, senza ulteriori indugi? Cominciamo! Vuoi acquistare una scheda video ma non riesci a trovarla a un prezzo conveniente? Dovresti provare Agile Tech Tracker. Agile Tech Tracker è un tracker tutto italiano che vi fa acquistare schede video in maniera veloce, facile e sicura soprattutto perché sono acquisti effettuati su Amazon in tutta Europa. Oltre al canale principale abbiamo 3 canali secondari divisi per fasce di prezzo da 0 a 500€, da 500 a 950€ e da 950€ in su, appunto per permetterti di spendere il budget che più preferisci per acquistare una scheda video. Tracciamo schede video Nvidia dalla serie 1000 in su, schede video AMD dalla serie RX500 in su, tracciamo anche i console in tutta Europa. Per cui cosa aspetti? Il link è in bio, non ne resterai deluso davvero. Allora, giusto per farvi capire e non farvi intrippare male, io sono... la ripresa sarà al contrario. Io non sono dietro la fotocamera, sono dall'altro lato, quindi vedrete solo le mie mani che vi faranno capire ciò che io sto facendo. Cominciamo con l'unboxare l'XPG Primer, che è un mouse molto molto carino che mi è stato mandato da Adata, appunto. E io questo l'ho già aperto per fare delle foto sul mio profilo Instagram, che comunque è in descrizione con tutti i social se volete andare a dare un'occhiata. È un mouse RGB, 12.000 dpi, double shot surface with PBT e durable home on... home run? Switches. Ah, gli switch home run, ok. Benissimo. Sì, raga, sono ignorante io in fattori switch, però gli home run li ho sentiti. Ok, abbiamo foglietti illustrativi, garanzie e cose varie e all'interno della scatola in plasticazza abbiamo il mouse. Il primer, sinceramente parlando, si presenta come un mouse molto molto carino, soprattutto perché ha il doppio colore. Il fatto che sia rosso qui sotto mi fa impazzire, davvero. Si adagia bene, la mia mano si adagia decisamente bene sul mouse. Io non ho una mano estremamente grande e, sinceramente parlando, riesco a raggiungere tutti i tasti in maniera abbastanza veloce. Una cosa che vi posso dire non è che mi faccia impazzire è questo. Clic sinistro, clic destro. Sentite, sono due tonalità diverse di clic. Non so se questo vada ad inficiare le performance poi in game o comunque nell'utilizzo di tutti i giorni, ma a me questa cosa dà un po' fastidio. Per il resto il mouse è molto molto carino. Al tatto è plastica, plastica però ruvida, non è quella plastica brutta liscia che si trova sui mouse da 5€. Quindi impatto estetico superato. Ve lo farò vedere in live comunque. Il secondo prodotto di oggi è il Battleground XL Prime. È un tappetino che dovrebbe essere lungo, 900 mm e alto. Ah, largo, scusatemi. 420 mm. Allora, scincera... Vabbè, sì, lo apriamo. Dai, vediamo un pochettino com'è. Io non volevo aprirlo perché ho detto che è un metro di tappetino. Sarà un normalissimo tappetino. Ma dobbiamo anche vedere la unboxing experience. Sì, questo fa parte dell'unboxing experience. E infatti... Ok, easy. Volevo fare il verso di soddisfazione. Ed ecco voi. Porca miseria. È grosso. Mi sembra una cannalina dell'acqua, sincero. Bello grosso. Vabbè, siamo pronti? Lo srotoliamo. Ah, c'è un megarotolo di carta all'interno con... Ci sono le sorprese, aspettate. Oh, adesivi di Adata. Molto, molto carini. Vabbè, manuale di utilizzo è un tappetino per il mouse, come volete che si possa utilizzare. E abbiamo poi il cavo per collegarlo al nostro PC. Cavo USB, micro USB. Carino, carino. C'è un megarotolo di carta. E... Girato. No, vabbè, ma è bellissimo. È bellissimo. Seriamente parlando. Perché c'è il logo XPG qui nell'angolo. E c'è l'altro logo XPG che prende metà tappetino e c'è il centro, il lab, diciamo, dove collegarlo via USB con un tasto che sicuramente farà cambiare colore al tubo di LED, alla striscia di LED che vedete. È qui. È tutto qui intorno, praticamente. Tutto intorno al perimetro del tappetino. Sinceramente parlando, è una gran figata. Mi piace anche il tessuto. E in tessuto mi sembra abbastanza liscio, comunque. Non è assolutamente rigido. Bello. Bello. Promosso per le vostre spivanie e tanta roba. E sapete che vi dico? Io quasi quasi lo utilizzo come superficie per il prossimo unboxing. Questa tastiera. La Summoner. Io questa qui l'ho aperta. Perché non riuscivo a resistere. L'impatto estetico è qualcosa che mi fa impazzire. Questa tastiera mi ricorda tantissimo la G512 di Logitech, comunque qualcosa di simile a quel modello. È una tastiera meccanica che appunto scimmiotta lo stile di Logitech. Ma sinceramente parlando, questa mi piace di più. È più tamarra. Ha una rotellina qui sicuramente per i comandi multimediali. Un tasto per il muto. Ha un USB pass-through qui. E gli switch sono dei Cherry MX rossi, come potete vedere da qui. E adesso vi faccio sentire un pochettino come suona questa tastiera. Nemmeno fosse una tastiera quelle per suonare, però. Molto molto bella. Decisamente livello estetico esame superato. Specialmente per il logo XPG che trovate qui. È in metallo. Sì, è metallo. Bello freddo. Metallo ed è davvero molto molto bella. Tanto tanto carina questa tastiera. Sì sì, molto bella. L'articolo figo. L'articolo figo. Sono le cuffie, le Precog di XPG Adata. Sono delle cuffie che vi ho già fatto vedere sul mio profilo Instagram. Ma che, sinceramente parlando, meritano una seconda occhiata. Innanzitutto per il packaging. Il packaging è praticamente un case rigido, ma che fuori è morbido. In pratica è gommato. Molto molto bello, sentite. Molto molto carino. E una volta che lo andate ad aprire, questo è ciò che vi si para dinanzi agli occhi. Le cuffie sono estremamente belle. Avete le cuffie con una fascia che serve appunto per adagiarle sulla vostra testa e adattarle a tutte le misure di testa che avete. Perché voi potete avere tante misure di testa. Mi sembrano abbastanza flessibili per quanto riguarda il gioco. Guardate quanto le sto allargando. Mamma mia, spettacolo. Io per un attimo ho tremato male. Molto molto carine. Qui invece, nella sacca, trovate un microfono, adattatore USB, credo sia un adattatore USB, comunque, sì, è un adattatore. Un cavo jack 3.5 mm, 3.5 mm, credo, vabbè sì, potete collegarlo comunque a qualche scheda audio nel vostro PC o comunque potete collegarlo. Credo anche allo smartphone. Sincero, penso anche allo smartphone. Devo un attimo controllare. Un altro adattatore con un jack femmina, qui, e due jack maschi, che va uno per il microfono, uno per le cuffie. Non ho idea di come si possa utilizzare questo, però poi lo scopriremo. E un DAC che si collega direttamente alle cuffie. Molto carino. Avete praticamente qui varie modalità di suono, FPS, surround 7.1 e music. Così che possiate utilizzare queste cuffie al volo per vari scopi. Non male, non male, sincero. Anche la qualità dei materiali mi sembra abbastanza buona. È plastica, sì. Ma mi sembra plastica di buona fattura. Bellino. Davvero molto molto carino. Alla fine ciò che fa davvero la sua porca figura sono le cuffie. Perché oltretutto hanno delle cuciture davvero molto molto belle. Di colore rosso tutto intorno qui. Ha la parte morbida, ha la headband. E qui c'è il logo XPG. Adatta da questo punto di vista non delude mai. Fa sempre dei prodotti molto molto carini. E adesso vi devo far vedere il monitor. Come cavolo ve lo faccio vedere io il monitor? Ok, i problemi cominciano ora. Abbiamo qui, non so se riesco a farvelo leggere, un Meg Artemis 323 CQR. Che è comunque una nomenclatura più corta di quelli... Scusate, di quelli a cui siamo abituati con altri monitor. È un monitor di MSI. Risoluzione QHD, quindi 2560x1440. Con refresh rate che se non erro dovrebbe arrivare a 165 Hz. 32 pollici. Curvatura 1000R e non ho idea di come si presenti un 32 pollici. Perché un 32 pollici 16 noni non ce l'ho mai avuto. Dobbiamo utilizzare il vecchio metodo a pompa svedese. Poi direte, G, qual è il vecchio metodo a pompa svedese? Si mette a testa in giù. Ok, easy. Vi dico che ci sono una marea di cavi e viti che stanno cadendo. Ok, bene. Non so, mi sembra la vite di un dissipatore a liquido, del montaggio di un dissipatore a liquido. Invece, boh, forse un supporto. Ad ogni modo, all'interno del pacco troviamo cavo DisplayPort, cavo USB, un cavo USB Type-C, penso per la trasmissione veloce di firmware e altre cose. Un cavo HDMI, che suppongo sia almeno 2.0 perché 2K a 165 Hz serve almeno quello. Come vi ho fatto vedere, un kit di montaggio per qualcosa. Abbiamo poi la base per il monitor, che ovviamente essendo un 32 pollici è enorme, bella però. Bella, molto bella. Davvero molto carina. E abbiamo poi lo stand. Come funziona il montaggio? Praticamente questo si infila qui, e fino a qua era tutto molto semplice. Bello come giro. Comunque, raga, è bellissimo. E poi, qui sotto c'è una vite, che basta stringere, suppongo, e dovremmo avere la base, oppla, bella montata. Molto, molto carina. Già la base mi piace un sacco, ok, già non so quanto costi sto monitor, ma questa base vale il prezzo del monitor. Abbiamo qui il mega pannello di MSI. Porca miseria, che bello. Ah, ho preso la scossa. Ed ecco qui il monitor. 32 pollici. Un attimo che cerco di farvelo vedere meglio. Per mettere la base si appoggia così, piano piano. Ah, ecco a cosa servono le quattro viti. A tenere fermo il monitor. Ma credo che rimanga fermo anche così. Salve. Per farvi capire, io riesco a allungare tutto il braccio e riesco a malapena ad arrivare, guardate un po', qui alla fine del monitor. 32 pollici, un sacco di roba, bellissimo, tanta tanta roba. Nei prossimi giorni su Twitch e su YouTube comunque ci saranno dei video e delle dirette dedicati a queste cose che vi ho fatto vedere oggi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mi piace, iscrizione, campanella. E ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli. Ciao ciao.